Altre due scippi si sono verificati in città sempre ai danni di persone anziane. Il primo è avvenuto ieri sera in via Gobetti. Un'anziana è stata sorpresa alle spalle da uno sconosciuto che le ha sfilato la borsa dal braccio e poi ha scappato in tutta fretta a bordo di un'autovettura. Via Grandi, trasversale di via Leonardo da Vinci, è stata teatro del secondo scippo che ha costretto una ultraottantenne a chiedere l'intervento dei soccorritori e delle forze dell'ordine. L'episodio è avvenuto poco dopo le 21.30. L'anziana è stata aggredita da dietro proprio all'ingresso del condominio nel quale risiede. L'uomo nel tentativo, purtroppo riuscito di sottrarle alla borsetta, ha causato la caduta della donna che ha riportato escoriazioni alle gambe. Sul posto, oltre ai volontari del 118 che hanno trasportato la vittima dell'aggressione al pronto soccorso, anche una pattuglia dei carabinieri. I militari hanno setacciato la zona circostante ai giardini pubblici alla ricerca di qualche indizio utile. Le indagini sono in corso.